Cercherò di essere breve, soprattutto prima congratulazioni alla Fortitudo, se l'ha meritato la vittoria, soprattutto di come ha giocato il primo tempo dove noi, non so per quale ragione, abbiamo sbagliato troppo, troppi tiri, sbagliando proprio troppo si vedeva una non tranquillità, una inchietù inspiegabile. Poi secondo tempo ovviamente Teodosic l'ha preso nella palla, abbiamo tornato sulle istruzioni sue personale, l'ha fatto da leader e siamo tornati sul pari, sul 2.28 penso che abbia sbagliato due tiri liberi, eravamo più sei, se li avesse fatti lì secondo me sarebbe stata completamente finale diverso, subito dopo abbiamo fatto un fallo su tiro da tre con Ali Begovic, quindi abbiamo ancora una grossa differenza nelle letture difensive, nell'usare i falli, nel giocare con l'esperienza, non siamo tatticamente disciplinati, individualmente soprattutto, e lì mi sono arrabbiato abbastanza e avremo molto da fare. Dobbiamo anche essere molto più aggressivi, penso che ci piacciamo troppo.